Ben trovati ospiti di questa puntata di Politiche d'Intorni, Mario Ferrante, direttore generale dell'azienda ospedaliera Sampio di Benevento. Intanto, direttore, grazie per aver accettato il mio invito. Un invito che nasce dalla pubblicazione di un secondo volume, un bel volume bello tosto, no? Sono quante pagine, direttore? 790. 790 pagine, insomma, è un bel lavoro, che è un manuale tecnico operativo sulla sanità ospedaliera. Naturalmente, ecco, grazie al regista che ha messo in sovrimpressione, sono due volumi. Il primo riguardava, è stato pubblicato quando il primo? Nel 2012. 2012 riguardava la sanità territoriale, la sanità pubblica territoriale. Ecco, due volumi che sono in qualche modo collegati all'esperienza. Il primo, l'esperienza maturata dal dottore Ferrante, quando è stato direttore generale dell'ASL di Avellino. E il secondo, da due esperienze, esperienza dell'ospedale di Caserta e dall'esperienza attualmente in corso di direzione generale al Sampio di Benevento. Naturalmente, per parlare dei due volumi, dei due manuali, ci vorrebbe un mese. Noi andiamo più sulle cose che interessano, anche perché questi due volumi sono destinati essenzialmente agli addetti ai lavori. Però ci danno lo spunto, dottor Ferrante, per cercare di capire. Noi, degli ospedali, noi comuni cittadini, che cosa sappiamo? Sappiamo essenzialmente ciò che ci restituiscono le cronache, oppure quello che ci restituiscono le riviste specializzate. Ma tutto quello che accade all'interno dell'ospedale, l'organizzazione, che poi dovrebbe essere l'ombrello protettivo per chi in ospedale va, di questo sappiamo poco quanto niente. Quindi io comincerei proprio da questo. Ma quanto è complessa l'organizzazione di un ospedale, dottor Ferrante? Beh, diciamo, l'ospedale ha una complessità, ma l'organizzazione non è, diciamo, eccessivamente problematica, ma quello che conta è sempre quello che è a monte, prima di mettere in moto qualunque tipo di organizzazione, io reputo che ci sono gli uomini. E quindi l'ospedale è fatto da uomini, da persone, che in base alle loro competenze possono sviluppare e possono portare avanti un discorso in un senso, oppure farlo diventare sempre più di eccellenza, sempre più una nicchia, e sempre legato alle persone. Perché dico questo? Perché nell'ambito dell'ospedale e anche nell'ambito degli ospedali di riferimento, spesso sulle stesse specialità ci sono delle punti di eccellenza e la stessa cosa non avviene semmai in altri ospedali. Quindi semmai è importante chi porta avanti un discorso che poi diventa di eccellenza. Quindi un reparto di cardiologia in un ospedale è al top e in un altro è normale. Questo da che cosa dipende? Dipende sempre da chi gestisce quella unità operativa che ha le competenze, la specificità e la fa diventare di eccellenza. Se noi mettessimo insieme in un ospedale tutte eccellenze sarebbe il più grande ospedale bello che ognuno può ambire ad avere. La stessa cosa un attimino più sopra anche l'organizzazione di chi deve far funzionare l'ospedale. E' naturale, se ci sono le competenze probabilmente le criticità possono essere risolte subito, l'organizzazione si può entrare prima in un'organizzazione efficace e voi sapete bene come la penso, bisogna investire sempre sulla professionalità. Io ho visto che quando c'è la professionalità funziona sempre l'organizzazione. Certo, allora investire sulla professionalità, l'investimento sulla professionalità chi lo fa? Lo fa essenzialmente il direttore generale, naturalmente disponendo delle cose che ha, con la farina che ha poi dovrà fare la pasta buona o cattiva. La domanda è, anche perché è oggetto di polemiche da sempre, quanta interferenza vera, reale c'è della politica? In provincia di Avellino si raccontano tante favole, chiamiamole così, sulle professionalità mortificate oppure su quelle inventate. La pressione della politica, che c'è sempre stata, dottor Ferranti, è diminuita, è aumentata? Siamo entrati in purgatorio dopo essere usciti dall'inferno? Come stanno le cose? Beh, dico questo, nella mia esperienza, diciamo, ospedaliera, Caserta-Benevento, io a Caserta ho nominato 16 primari e a Benevento... 16 su quanti? 16 su una trentina. Ho fatto un buon rinnovamento e a Benevento, nonostante il Covid, già ne ho nominati 4. Posso dire, nell'esperienza di questi due ospedali, che devo dire, io ho cercato di fare delle scelte mirate per i beni dell'azienda e contestualizzate nel momento in cui andavo a fare la scelta. E devo dire che non ho avuto interferenze, e anche la politica, io penso che da questo punto di vista, se uno spiega perché vuole fare delle cose, ognuno capisce e probabilmente ti agevola pure nel fare delle scelte. L'importante è dare una testimonianza e un'onestà intellettuale che la scelta si fa per i beni della collettività. una per tutti, a Benevento, ho ricomposto un'equip che faceva capo a Catapano. Ho preso l'aiuto che... A Catapano, ricordiamolo, a Catapano. Il neurochirurgo che è andato vive, è un'eccellenza. E che tutti lamentavano l'assenza. L'aiuto anziano che stava in un'altra azienda, infatti io l'ho vinto, adesso ho ricomposto di nuovo l'equip di Catapano. E' diventato di nuovo un'attrazione per l'azienda. Ultimamente ho nominato il primario di oncologia che era il braccio destro di Ascerto. E quindi è venuto a Benevento. La stessa cosa è il primario Torino di Maria che naturalmente noi lì stiamo facendo anche interventi di tipo pediatrico che le facciamo noi a Santo Bono. Quindi voglio dire, è sempre importante investire. E' reputo che il primario, il direttore di struttura complessa, come si dice adesso, deve essere bravo a prescindere da ogni cosa. Non si può mediare sulla professionale e alla competenza. Qui meritocrazia assoluta. Perché poi noi quando abbiamo un problema e andiamo in ospedale, se abbiamo il primario bravo ce lo troviamo. Altrimenti poi non possiamo fare nulla. Senta, traduco, mi permetto di tradurre. Capisco da quello che lei dice, se ho capito bene, in questo senso traduco, che le pressioni politiche si sono un tantino allentate rispetto al passato. Io non so se lei ha mai avuto pressioni politiche per nominare un primario. Però, insomma, nel passato c'era una certa, se non proprio prassi, ma c'era una cattiva abitudine. Cioè, De Luca, per fare nomi e cognomi, la chiama mai per dire sentimi fai questo primario? No, no, non succede. De Luca ogni volta mi ha sempre detto nomina il migliore possibile. Sempre questo mi ha detto. E continuo a dirlo. E quando mi ha chiesto l'Umi, ho spiegato, ha detto vai avanti per le cose che reputi giusti di fare come direttore generale per il bene della collettività. Questa è la pura verità. E diciamo, probabilmente, reputo anche che sia la politica che tutto il resto ti deve anche riconoscere un'autorevolezza nella funzione. E quindi, probabilmente, forse a me non me lo chiedono nemmeno tante cose. Cioè, si mantengono leggermente all'atere, mi chiedono quello che forse possono chiedere. Quello che è impossibile evitano, probabilmente anche perché, sapendo il mio carattere, non è che sono molto, diciamo... Senti, ma è vera questa? È una leggenda metropolitana? Oppure è vero che una delle prime cose che lei ha fatto, facciamo nomi, naturalmente, per carità di patria, ma una delle prime cose che ha fatto a Benevento, quando è arrivata a Benevento, è stato di mettere un po' di cosine a posto rispetto a dei guastatori. Mi sembra, insomma, mi hanno raccontato che lei ha un guastatore, uno di questi guastatori, manco a dirlo, un sindacalista, ha detto, caro signore, adesso ti denuncio, dopodiché ne parliamo. È vero questa leggenda metropolitana? Sì, io naturalmente cerco sempre di spiegare con le buone, di far capire che, diciamo, io sono animato da buoni sentimenti per il bene dell'azienda e della città o della provincia, che in quel momento vado a fare attività di tipo sanitario. Quando ci sono situazioni che tutto hanno a che fare, tranne che della sanità, naturalmente io divento un po' rigido e probabilmente cercherò anche di difendermi nel meglio dei modi perché chi ha la possibilità deve fare una difesa del territorio e deve fare anche una difesa del buon andamento della pubblica amministrazione. altrimenti se si entra nella logica si può fare, tutti sono abilitati a fare. Siccome mi repito abbastanza tranquillo ma ho le idee chiare su quelle cose da fare, io penso anche che faccio un lavoro meritorio per una correttezza etica e morale, così ognuno può darsi una regolata. Certo, abbiamo detto della necessità di investire sulle professionalità per avere una organizzazione ospedaliera dignitosa, che funzioni, che poi è quello che interessa all'utente, al paziente. Ma per quanto riguarda il personale, dottor Ferrante, questa storia che abbiamo, il personale in sotto organico, nel metrogiorno d'Italia, in Campania, e quindi in provincia di Benevento, di Avellino, per le cose che più ci riguardano, è vera oppure è una esasperazione? Cioè non è un velo per coprire un po' le nostre abitudini cattive, se ne abbiamo? No, oppure c'è un'effettiva carenza di personale? Sicuramente negli anni si è creata una carenza di personale perché essendo una regione in zona di rientro molte cose non ci consentivano e non si potevano fare. Ma, devo dire, con la presidenza di De Luca, sicuramente si è portata a un passo molto avanti e questo ha comportato di riprendere di nuovo in mano la situazione e incominciare a allineare di nuovo il fabbisogno del personale. È naturale che tutte le cose negative in qualunque organizzazione non possono cambiare dalla sera alla mattina, ma ci vuole un tempo per il recupero di quelle cose perdute. Quindi adesso noi stiamo facendo una serie di concorsi, una per tutti, a Beneventi già abbiamo assunto 180 persone. Voglio dire, non è poco tra dirigenti, adesso c'è un concorso per 45 invermieri che stiamo portando avanti, per 10 assistenti amministrativi, abbiamo preso dirigenti su tutti i fronti delle varie specialità. Voglio dire, si sta facendo. È naturale che il gap va sanato nel tempo, ma si sta lavorando e penso che tutti stanno facendo questa azione. Abbiamo avuto questa esperienza, questa brutta esperienza che stiamo ancora vivendo della pandemia. Che cosa ci ha insegnato? Ecco, dovendo pensare, come si sta pensando, ad una riforma della sanità, il nostro sistema sanitario viene riconosciuto tra i migliori al mondo, ma la pandemia ha messo a nudo tante deficienze, una riforma, su che cosa bisognerebbe puntare? Ecco, detto da un manager che è anche medico, o meglio, è prima medico e poi manager, per cui c'è anche una competenza più specifica sui punti critici della nostra organizzazione. Sicuramente la pandemia ha insegnato che, diciamo, che poi, proprio tradotto in termini, è stata una guerra in sanità, la pandemia, e ha portato una serie di azioni, ha fatto emergere una serie di criticità, perché nessuno era preparato, diciamo, dalla spagnola, di circa 100 anni fa, che aveva visto a oggi il corrispettivo, è molto più grave, questa pandemia, la situazione è che, praticamente, le criticità sono emersi alla grande, dove c'erano, e quindi, automaticamente, probabilmente, dove si è investito, più in alcuni settori, meno in altri, è emerso, che lì c'era qualcosa di, eccessivamente, particolarmente critico, e che poi è emersa la grande, voglio dire, territorio, per dire, tutti ne parlano, il territorio ha una valenza, proprio per il raccordo all'ospedale, che deve fare un'azione di prevenzione, tutto ciò che si deve fare sul territorio, e non viene fatto, si riverbera sull'ospedale, quindi, se sul territorio funzionano tutte le attività, legate al medico di medicina generale, specialista ambulatoriale, guardia medica, distretto sanitario, tutto ciò che si prende in cura il malato lì, e si fa bene, probabilmente non arriva in ospedale, perché non avendo risposte, il cittadino, poi è costretto, in caso di acuzia, a fare 1, 1, 8, arriva un'ambulanza, e lo porta in ospedale, quindi, necessita sempre questa cosa, e quindi, la parte ospedaliera, io reputo, si parla sempre di integrazione ospedale-territorio, l'integrazione deve essere, che si deve fare la presa in cura del malato, sia in entrata che in uscita. lei ha toccato, ha aperto un argomento, sul quale volevo appunto chiedere, seguivo, mentre col ditino, batteva il ditino, scusi, mi si è presentata l'immagine del pianoforte, no, Ferrante che suona il pianoforte, ha toccato una nota, che è una nota, che può essere un grande là, oppure un dodi petto, no, allora, glielo chiedo, rispetto all'esperienza ancora, che abbiamo vissuto, e che stiamo vivendo, il rapporto territorio-ospedale, che è un argomento di cui si parla, si parla tanto, com'è stato? Cioè, è emerso qualche cosa che non va o no? E dove bisognerebbe spingere per correggere? Noi assistiamo, glielo dico, magari non accade in provincia di Benevento, e nemmeno in provincia di Avellino, per essere generosi, però noi assistiamo a questo conflitto permanente, tra i direttori generali delle ASL, quindi territorio, e i direttori generali degli ospedali, non parliamo della provincia di Avellino, né di Benevento, perché sarebbe anche fuori luogo, ma in generale, questo conflitto, da che cosa deriva? Io, proprio per la massima sincerità, ragionerei per il malato, sia sul territorio, sia in ospedale, e quindi, diciamo, quello che conta, è che il profilo di cura, che parte, come dicevo prima, dal territorio, e può arrivare in ospedale, o viceversa, dall'ospedale, l'acuzia poi si trasmette e si è il profilo di cura al ritorno sul territorio per riabilitazione e altre cose. Qual è il problema? Che ognuno dovrebbe fare l'azione a cui è preposto, cioè il medico di medicina generale ha in cura i malati, i suoi preassistiti, se fa un'assistenza, tipo medico condotto di una volta, che si cura i malati, se li guarda, li visita, diventa il suo confessore, diventa lo psicologo dei malati, li tiene in cura, li tiene sempre con sé, automaticamente dà le risposte molto forti, già sul territorio. Quello che non riesce a fare, lo può chiedere sul territorio, al distretto, e in casi non più importanti, passa la palla all'ospedale. In questa filiera, se qualcosa non funziona, naturalmente, a canna d'organo, tutto dove si blocca, lì diventa un intoppo per questo profilo di cura dal territorio, in ospedale. Certo, il discorso è chiaro, le faccio di osservazione critica. Viceversa, dall'ospedale, nel momento in cui una persona ha un ictus, ha un infarto, ha un trauma, e poi deve fare attività di riabilitazione. Se la presi in cura non è fatta in maniera adeguata, più tempo passa, più la riabilitazione diventa una disabilità, più che riabilitazione, quindi ci troviamo, la disabilità, che cosa comporta a livello politico, a livello sociale e sanitario? La disabilità ha un costo, quindi noi, se curiamo bene, le persone stanno bene, ci avverremo anche a livello sociale, a livello politico, altrimenti dobbiamo assistere persone con disabilità che comportano problemi alla famiglia, alle persone che devono stare vicino, e alla società stessa, e anche nell'ambito lavorativo. Certo, dottor Ferrande, mi permetto ancora di tradurre, lo faccio in maniera, diciamo, più popolare. Allora, se ho capito bene, noi stiamo avendo un deficit di attività clinica, mi correga se sbaglio, di attività clinica dei medici di base. Per cui, mancando questa attività clinica molto severa, molto rigorosa, molto costante, accade che apriamo le porte dell'ospedale anche per pazienti che potrebbero essere curati sul territorio senza problemi. Ora, il rilevo critico che le faccio, ma è colpa del medico di base se purtroppo la norma statale obbliga i medici di base a fare al 50% i medici e al 50% gli impiegati con tutte le scartoffie che bisogna riempire. Ecco, è un rilevo critico? Devo dire, io non mi sento di... i medici di medicina generale reputo che fanno la maggioranza bene alla loro parte. Il problema è sempre legato a quello che si deve poi indurre a chi potrebbe non essere in linea a fargli fare bene la propria azione. Perché, devo dire, altrimenti non facciamo giustizia di verità, ci sono tanti medici di medicina generale che fanno un'attività egregia e si dedicano tantissimo e devo dire forse è una sparuta minoranza che potrebbe non essere proprio ma la maggioranza fanno un'opera anzi spesso sul territorio i medici di medicina generale sopperiscono alle criticità generali perché diventano gli unici a dare una risposta come dicevo prima o lo dà il medico di medicina generale che vanno all'ambulatorio oppure se stanno male diamo nel 118 alla fine diventa quasi che più che prendersela con loro forse sugli unici ancora che danno risposte nella buona e cattiva sorte perché voglio dire comunque il malato va lì ha un assistente al 100% a 90% ma ha una risposta dal medico di medicina generale quindi io mi sento di dire che non possiamo scaricare sugli altri le cose io penso che ognuno deve fare il proprio dovere reputo come approccio generale mi sono trovato a parlare con Walter Ricciardi che siamo amici io mi lamentavo spesso per alcune cose lui mi disse una cosa che mi è rimasta talmente impressa ma da qualche anno e lo sto applicando lui mi ha detto Mario tu devi fare una cosa non guardare il vicino se fa bene o fa male voi siete 17 aziende in regione Campania se ognuno fa bene il proprio lavoro la sommatoria delle 17 aziende porta una grande sanità in Campania ma ognuno deve fare il proprio lavoro allora io ti reputo che il direttore generale deve fare bene il proprio lavoro le varie figure che a cascata nella filiera si trovano deve fare bene il loro lavoro se ognuno facesse bene forse sarebbe tutta una sanità migliore ma è legata sempre alla passione con cui si fanno le cose perché se noi mettiamo a base sempre il business i soldi e le cose che servono per fare una determinata cosa la gratificazione non basta solo sui soldi voglio dire per fare un lavoro ci vuole la passione se uno va a lavorare e fa la cosa con passione o il direttore generale o il medico ospedaliero o il medico di medicina generale che ha amore che vuole stare vicino al malato gli vuole dare risposte funziona altrimenti non si può imborre qualcosa a qualcuno che non la vuole fare vediamo se riesco a farle dire qualche cosa di cattivo a farla inimicare con i medici ospedalieri lei parlava di affari o facciamo gli affari mi risponda sinceramente quanto business c'è negli ospedali business dei medici ospedalieri prenda business nel senso più dolce possibile non il malaffare il business nel senso di far soldi fare l'affare fare l'affare che la professione in qualche modo consente di fare quanto ce n'è? mi permetto di poterti dire una cosa ti do del tuo ci conosciamo da tanti anni allora io ho dato grande grande diciamo afflato grande stima ai medici di medicina generale e sicuramente non posso dire dei medici ospedalieri cose che diciamo io reputo sempre questo il medico ospedaliero svolge una funzione fortissima e anche lì c'è il problema attrazione attrazione nell'ospedale è ancora più forte l'attrazione la differenza è questa che in ospedale chi fa attrazione spesso diciamo ha molte richieste allora l'abilità dell'organizzazione è di far funzionare un sistema nonostante l'attrazione e allora noi che cosa abbiamo fatto per evitare il business cosiddetto chi viene in ospedale vuole fare la visita con il medico X che più attrae di più noi dobbiamo garantire le visite ordinarie a tutti poi chi vuole farsi la visita col medico può farle in intramenia paga la tariffa e si fa la visita in intramenia ma io prima devo garantire la visita a tutti dopodiché se uno vuole spendere e vuole fare un consulto ulteriore vado al medico in maniera specifica siccome c'è la norma che lo prevede applichiamo la norma io lo faccio e funziona cioè nel senso le liste d'attesa a Benevento porto un esempio pratico operativo che ha funzionato quando io sono andato c'era per le visite cardiologiche elettrocardiogrammi e tutte le cose attesa di 5-6 mesi come l'ho risolto ho preso a quanto è sceso? a zero come è sceso? dico pure come fa? cioè non ci sono liste d'attesa perché io ho preso ho bloccato tutte e ho detto facciamo 6 ambulatori venerdì, sabato, domenica chiamiamo tutti quelli che sono in attesa e chiamiamoli siccome la metà già avevano trovato soluzione e risultavano ancora in attesa gli altri li abbiamo fatti alla visita e quindi si è tolta l'attesa cioè ho fatto ambulatori 5 ambulatori in contemporanea venerdì, sabato e domenica abbiamo fatto la macchina da guerra abbiamo azzerato la lista d'attesa in qualche modo ho anticipato la risposta ad una domanda che tenevo in mente di farle e gliela faccio mentre lei parlava e accennava alle liste di attesa in qualche modo collegabile a quel concetto di business pulito è legale per carità ci mancherebbe allora la domanda è questa liste di attesa le liste di attesa sono la vera via crucis degli ospedali c'è poco da fare no? quando è condizionata la lista d'attesa cioè l'allungamento della lista d'attesa dall'intramenia perché l'intramenia fa guadagnare il medico e fa guadagnare anche l'ospedale giusto? in che misura è condizionata secondo la sua esperienza? allora è condizionata nel momento in cui non c'è il governo è condizionata ma se c'è il governo non è condizionata allora io ho trovato un esempio non posso dire un medico specialista che faceva l'ottanta per cento in intramenia e il venti ordinario e l'ho resettato tutto ho detto senti mi fai il cinquanta ordinaria e il venti trenta in intramenia non viceversa ho bloccato tutto perché ho fatto il controllo e ho detto tu non è che stai qui a fare le attività tue in ospedale e una clinica no tu mi devi dare l'assistenza ordinaria dopodiché il venti trenta quaranta per cento ma prima mi devi erogare tutto l'ordinario e poi puoi fare le visite ma è sempre legato a chi vuole far vedere vuole ciecare gli occhi vuole mettere la testa come lo strutto sotto terra o vuole far emergere i problemi e risolverli naturalmente questo ci vuole anche un po' di coraggio autorevolezza credibilità e il rispetto della persona io quando dico le cose mi ascolto ma non lo so lo fanno per rispetto ho autorevolezza non lo so comunque io quando dico una cosa la fanno non posso dire per gli altri perché non posso posso parlare solo di me però spiegando le ragioni funziona abbiamo due minuti e l'ultima domanda è passata mezz'ora non ce ne siamo siamo a 28 minuti vuol dire che le cose filano bene allora lei accennava prima alle disabilità cioè una permanenza in ospedale che non viene ecco la riabilitazione non viene osservata anche perché gli ospedali non fanno riabilitazione giusto? e però c'è questa abitudine o necessità non saprei dirle di tenere molta gente molti pazienti che hanno bisogno della riabilitazione quindi della struttura intermedia ma continuano a stare in ospedale pesando con i costi perché la struttura intermedia il posto letto della struttura intermedia costa parecchio meno del posto ospedaliero perché succede questo? di che cosa c'è bisogno direttore Ferrante? c'è bisogno di una norma regionale che sblocchi c'è bisogno di una riorganizzazione cosa è che manca? no devo dire proprio in questo caso noi in sanità abbiamo tante norme e ci sono anche in più di quelle che servono allora il problema è che sempre legato all'organizzazione e al profilo di cura del paziente un paziente che è ricoverato ha avuto un ictus o ha avuto un infarto nella dimissione è già previsto che si fa un piano riabilitativo in ospedale d'accordo col distretto che esce dall'ospedale e viene preso in carico dal distretto nelle strutture accreditate per fare attività riabilitativa è un profilo che già è funzionante cioè ma è fluido questo passaggio? io penso che dovrebbe essere è fluido poi voglio dire e dipende sempre a macchia di leopardo da realtà a realtà ma la norma anche in questo caso c'è è scritto tutto anche per bene c'è ci sono tutte le linee guida della riabilitazione per esempio regionale in cui si dice già chi fa che cosa e ci sono i piani di riabilitazione ci sono le commissioni che fanno i piani riabilitativi quindi c'è tutto in sanità ci sono molte leggi in più di quelle che servono quello che conta è applicarle certo Ferranco spesso ci sono molte delibere che stanno fatte una domandina supplementare proprio in zona Cesarini ma in un minuto massimo me la deve liquidare allora diciamo che una domanda un po' un tantino così sentimentale ecco quasi romantica lei se ne va a dormire sempre tranquillo la sera lei fa un lavoro diciamoci la verità come tutti i direttori generali come gli stessi primari un lavoro molto molto importante molto delicato molto complesso non è un lavoro semplice per cui la sera quando se ne torna a casa un po' stanco ma comunque carico di pensieri di selezioni di pensieri cioè prima di addormentarsi glielo dico nel modo più classico glielo chiedo si fa l'esame di coscienza è andato tutto bene oggi potevo fare di più che succede che succede a Ferranco io vado spesso l'unica cosa che io vado in crisi è che negli ultimi tempi le persone un po' il covid un po' la società è cambiata le persone non sono più come una volta e allora uno che fa questo lavoro spesso va che significa si sono incattivite si incattiviti la parola data la disponibilità c'è un approccio di volta gabbana quotidiano le dicono una cosa ne fanno un'altra e quindi c'è sofferenza perché vedi l'animo umano che esce nella massima espressione in negativo cioè lei ha notato ha potuto notare perché è importante questo profilo ha potuto notare una accentuazione del profilo egoistico delle persone si molto adesso c'è stata proprio una chiusura ognuno ormai il suo mondo se l'è ricavato in famiglia e quando esce fuori esce con un grande distanziamento e diciamo sono tutti pronti a cospetto a reagire a qualunque problematica quindi non c'è più la bontà delle cose si sono tutti un po' più incazzati sulle problematiche allora abbiamo finito dottor Ferrante se la regia mi può inguadrare di nuovo il primo testo la sanità pubblica territoriale il primo volume secondo volume è la sanità ospedaliera manuale tecnico operativo per gli addetti ai lavori il terzo volume quale sarà? il terzo volume vorrei fare qualcosa che è più patetico e più sentimentale nel senso più generale filosofico di vita perché il territorio abbiamo scritto l'ospedale pur forse vorrei scrivere qualcosa che sia più generale un po' della vita quotidiana anche di un direttore generale magari un po' di aneddotica aneddotica sì ne avrei da dire tante cose mi piacerebbe forse quando è che di dire qualcosa un po' su tanti aneddoti che mi hanno anche formato perché quello che vi posso dire che nella mia storia ormai sono più di vent'anni che sto in questa attività di sanità pubblica e che ne ho visti di tutti i colori e anche persone delle volte ciniche che ho incontrate persone che diciamo avevano approcci così le posso suggerire un titolo anche perché è un po' il mio messiere il prossimo volume sanità due punti ne ho viste di tutti i colori i racconti accetto la sfida benissimo grazie al dottor Ferrante per essere stato con noi grazie a voi arrivederci con la prossima puntata di politica e dintorni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti